Salve amici, oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di, Monterosso. Annuncio ritardo, il treno regionale 5 Terra Express, 22 928, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, e diretto a Levanto, delle ore 14 a 48, arriverà con un ritardo previsto di 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale, 12 230, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, e diretto a Sestri Levante, delle ore 14.39, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Levanto, Bonnassola, Framura, Deiva Marina, Moneglia, Riva Trigoso. Il treno regionale 5 Terra Express, 22 927, di Trenitalia, proveniente da Levanto, e diretto a Sarzana, delle ore 14.42, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bernardza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore, la Spezia Centrale. Annuncio ritardo, il treno regionale 5 Terra Express, 22 928, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, e diretto a Levanto, delle ore 14.48, arriverà con un ritardo previsto di 10 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 5 Terra Express, 22 928, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, e diretto a Levanto, delle ore 14.48, è in arrivo in ritardo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity, 6 7 4, di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale, e diretto a Milano Centrale, delle ore 14.55, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Levanto, Sestri Levante, Chiavari, Ratallo, Santa Margherita Ligure Portofino, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Tortona, Pavia. Il treno Intercity, 6 6 5, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15.07, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Annuncio ritardo, il treno regionale 5 Tarra Express, 22 9 2 9, di Trenitalia, proveniente da Levanto, e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15.12, arriverà con un ritardo previsto di 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 5 Tarra Express, 22 9 2 9, di Trenitalia, proveniente da Levanto, e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15.12, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore. Il treno regionale 5 Tarra Express, 22 9 3 0, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, e diretto a Levanto, delle ore 15.18, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Annuncio ritardo, il treno regionale, 12 3 8 1, di Trenitalia, proveniente da Savona, e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15.17, arriverà con un ritardo previsto di 5 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale, 12 3 8 1, di Trenitalia, proveniente da Savona, e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15.17, è in arrivo in ritardo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bernazza, Corniglia, Manarola, Rio Maggiore.